Una targa in memoria del dottor Giancarlo Piperno è stata scoperta sulla facciata della sede della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Di Andreni a Pistoia. Una sede inaugurata due mesi fa e che da ora porta il suo nome. Oggi, 23 novembre, avrebbe compiuto 90 anni. L'impegno nella prevenzione dei tumori è stata una costante nella vita del dottor Piperno. Fu lui, nel 1961, a fondare la sezione provinciale della Lilt. Lo scorso anno, il 29 di novembre, è stata fatta una festa per lui. In quell'occasione, lui avrebbe dovuto tagliare il nastro, cioè mi aveva promesso che sarebbe sopravvissuto, per tagliare il nastro della nuova sede della Lilt. La sede della Lilt sarebbe stata dedicata a lui comunque e lui già aveva visto il progetto. Era felice di tutto questo, perché nella sua vita quello che era il suo impegno maggiore era la prevenzione oncologica e il sostegno del malato. Ricordo a tutti che tanti, tanti, tanti anni fa è stato il punto di riferimento per tutta la comunità pistoiese e non solo per quanto riguarda la diagnosi precoce del cancro al seno. Quindi questa è la sua sede, da lui creata, pistoia, voluta. Ed è giusto che ciascuno di noi che offre qui il suo apporto di volontario per le proprie specialità abbia sempre presente questa persona. E anche perché pistoia non dimentichi chi ha fatto tanto, soprattutto per le donne. Già primario di radiologia medica all'ospedale del Ceppo, Piperno portò la senologia in Cina, a Nanchino, c'è un istituto intitolato a lui. Ma nonostante le lusinghe ricevute a livello internazionale, scelse di restare a pistoia. Commovente è il ricordo di Mebrac, Gebre Medein, che ha affiancato Piperno fino agli ultimi giorni. Io ricordo ce l'ho da un genitore, è stupendo per me, è una persona... Non riesco neanche a dire due paroline per me, mi sento persa che non c'è anche lui. Il centro Lilt di Pistoia è oggi una bella realtà dove trovano spazio tre ambulatori e molte specialità, dalla valutazione chirurgica all'ecografia cardiaca, per chi si sottopone a chemioterapia, fino alla familiarità nei tumori alla mammella. Lo scorso anno abbiamo fatto 5.400 visite, con circa 3.200 soci. Quest'anno abbiamo avuto forse una flessione, perché per sei mesi siamo stati ospiti e quindi abbiamo ridotto un pochino il numero di visite, però non di molto.